Il momento clou è il capanato, è riuscito ancora una volta ad accendere un bel cammino, fantastico, qui testimone, il mio seguace Mauro, che si fida sempre, nonostante i 1262 metri di dislivello, però qua merita, merita, Mauro, diglielo al massimo! Qui merita, è fantastico, pari merito ai rifugi svizzeri, venite qua, venite, grande godimento, veramente sublime, ciao a tutti dal capanato numero uno, dopo Rocco, lui è il mitico!